Musica Ciao a tutti burloni sono Marci e benvenuti in questo nuovo video insieme al burlone Ciao burlone come stai? Tutto bene? Sei con... Ok, 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 ok Comunque ragazzi volevo dirvi una cosa molto importante Che siamo nel 78esimo episodio della... Ok basta burloni, ciao Tutto bene, tutto bene Intanto ragazzi una cosa che mi ricordo adesso perché c'è il peluche di fianco A Romics venderò le magliette con lui sopra Col burlone che è il mio burlone Ciao burlone A parte gli scherzi forse qua è meglio che diamo un attimino una piccola sistem... No beh così però ha il suo perché, devo essere sincero Ha il suo perché così eh Quindi lo lascerò bello rotto, mi piace rotto, sì Devo essere sincero e bello rotto Prima di fare qualsiasi cosa ragazzi lasciate un mi piace Nello scorso episodio abbiamo superato i 15.000 mi piace Solo perché avevo detto che avrei distrutto a 7.000 like la casa di Martina Lo faremo, non credo che lo farò in questo episodio Comunque non lo so Mi dispiace un po' buttarla giù perché mi avete dato di fare il villaggio degli youtuber Il villaggio degli youtuber lo vorrei fare più verso quella zona Comunque questa casa di Martina non mi piace per niente Devo essere sincero devo togliere almeno quelle KN sopra che sono brutte A casa in sé per sé non è che sia così maligna eh Però insomma vabbè fa niente Comunque oggi facciamo quell'episodio speciale del quale vi parlavo settimana scorsa Può essere che lo dividerò in due parti come può essere che lo dividerò in una parte O comunque può essere che lo divido in sei parti non lo so Si farà piano piano Allora vi dicevo nello scorso episodio che avrei voluto fare un restyling di tutta la vanilla Come prima cosa direi di iniziare ad abbattere tutti gli alberi che ci sono qua A parte questo che ormai è qualcosa di bello Di buttare tutti questi alberi stupidi qua che ci sono Anche questo qua magari possiamo lasciare Buttare via questi qua Iniziare a togliere questa cosa qua di mucche e metterla da quell'altra parte E' una cosa fondamentale ragazzi Che credo che abbatterò questa cosa delle pecore Allora non che non pensate male non voglio assolutamente fare qualcosa di drastico Fare chissà che che potete dire Oddio Marci non toglierla Voglio fare un restyling Il restyling potrebbe essere di iniziare a farla tutta chiusa Ok? Di togliere quel vetro di toglierla la pecora qua davanti Insomma comunque toglierla da qua davanti Perché il buon era mi ha dato una bella idea Di iniziare a fare una strada che vada fino in fondo Con un porticato o comunque con un arco Che ci dice praticamente che è l'ingresso appunto alla nostra città Qui si potrebbe tranquillamente buttare giù tutto Tanto ragazzi guardate qua quanto va veloce La nostra pala Boom! Va troppo veloce Quindi qua si potrebbe fare qualcosa vicino appunto all'acqua A parte che qua potremmo già fare un'unione Tipo fare una cosa del genere Non sarebbe una cosa negativa Qua bisognerebbe solo mettere l'acqua e siamo a posto Comunque abbiamo già creato il corso del fiume Qua si può togliere anche queste isolette in centro Che è abbastanza bruttina Ma questo è un altro problema comunque Come altro restyling ragazzi ho pensato una cosa fondamentale Iniziare a mettere decentemente queste farm A me piacciono un sacco le farm così Però secondo me dirò che c'è degli spazi tra ognuno Ovvero che una magari collega all'altra Insomma dobbiamo anche sistemare questi in questo episodio Ma prima cosa è diciamo buttare giù gli alberi Perché sono proprio brutti gli alberi che ci sono Quindi cominciamo da questo qua Mi dispiace i bomberissimi però siete davvero brutti qua Voglio iniziare a fare una città molto più carina E queste cose qua sono veramente orrende da vedere Peraltro mi avete detto che questi sono gli alberi Utilizzati da Aerobrain per far vedere della sua esistenza Ma no ragazzi l'avevo tolto io le foglie Non è che le lasciate luce per farvi capire un attimino Per quanto riguarda che cosa farò da questa parte destra Del nostro villaggio Ci farò appunto una piccola cittadina Un piccolo villaggio che può essere per trattenere i villager O comunque fare la stanza di tutte le cose degli youtuber Insomma far qualcosa di figo E' una bella idea che secondo me ci può stare Anche perché dobbiamo dare un'unione tra le parti Diciamo della nostra città Perché dietro faremo le cose giganti Qui voglio fare dei piccoli villaggetti Inoltre adesso mi serve del grano Per appunto Trasportare le mucche da un'altra parte Perché qui non ce le voglio più vedere Allora facciamo una cosa Tanto crafting table ce l'abbiamo all'ingresso Facciamoci un po' di fence E trasportiamo da un'altra parte Allora se non ricordo male Si facevano in questa maniera Allora qua possiamo fare delle fence Tutte fence Qua buttiamo via Qua facciamo tutto blocchi E bisogna... Mi sa che si faceva una cosa del genere Vero? Qualcosa del genere No questi sono i cancelletti Era il contrario Perfetto Quindi non ci basteranno mai Vero? Non ci basteranno mai O forse 30 Ma si dai 30 basta Basta che ci prendiamo un tappetino E siamo a posto Un'altra cosa che dobbiamo fare assolutamente In questo episodio ragazzi E' togliere tutte le chest Che ci sono in giro per la mappa Che sono veramente una cosa stupida Stupida proprio stupida Allora prendiamo questo Tappetino Tappetino vieni qua Ti butto via questo qua Ciao 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 Cominciamo a fare un qualcosa qui momentaneamente Tanto poi ragazzi basta che le trasportiamo al volo Non ci vuole praticamente niente Perfetto Facciamo una cosa del genere No qua bisogna tenere aperto un pezzo Perfetto Andiamo a vedere quante sono E trasportiamole immediatly Ok Sono Uno Due Dietro non ce n'è vero? No invece si ce ne sono tre Quattro Cinque Si sono sette mi pare Perché sono due Quattro Sei E sette qua dietro Ovvero perfetto Quindi dobbiamo iniziare a portarle Eh si spacchiamo qua tranquillamente Tanto adesso vado a prendere il grano E le trasportiamo a casissimo Bomberissime 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 Venite Su 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 Venite venite con me Venite bomberissime Uno alla volta Beh uno alla volta dovete venire però Ok qua Apriamo un pochino tutto Ciao venite Dai su Su venite qua Venite Ragazzi Nessuno mi vuole seguire Una Ma come sta Cosa Ok Bravissime Bravissime Venite Venite tutte Brave ragazze Brave mucchine Brave Tanto basta che venite in due Poi nel caso vi faccio accoppiare Io qua ci sono un botto di cose per te Ehi Gli altri Dai bomberissime Allora Non mi vogliono cagare di striscia Niente non hanno voglia di seguirmi Perfetto Si Si cucciole Si cuccioline Si piano piano Facciamo le cose con calma Piano 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 Perché sei messa a girare a casa Cosa sta combinando Dobbiamo andare di qua Venite Brave Voi tra le altre le può succedere Infine indiana Brave Infine indiana Raga stiamo distruggendo tutto Tutto Siamo distruggendo per far Sta roba qua Venite dentro Una alla volta Brave Bravo No Ma siete merde Qua dentro Ti devi venire Qua Su qua dentro Bravissime Ciao a tutte Adesso voi state qui dentro E non vi faccio più uscire Perché sono molto Acab Mettiamolo qua Mettiamolo Ciao Mi dispiace Per voi Altre Verrete Uccise Così Dammi un po' di cibo Dammi cibo 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 Ho bisogno di cibo Io Ho bisogno di cibo Non mi serve nient'altro Se non il cibo Perché abbiamo testetorce Vabbè Dopo dobbiamo liberarci Di un po' di cose Da questo inventario Devo essere sincero Mi dispiace un po' Butare sta cosa Perché c'è dagli inizi Però ragazzi Bordello Cioè bisogna iniziare A cambiare un attimino Un po' il passo Di questa serie Perché Perché sì Questo è un perché sì Non c'è un altro motivo Raga una cosa un po' tattica Ci vuole due secoli Per tirare giù questi alberi Zio Piera Banana Ignorante Cioè veramente Sono troppi Sono troppi Dai ragazzi Li ho così fatti Tirare giù quest'albero qua Lo so che perdo Utilizzi Però fa niente No in teoria Forse non li perdo nemmeno Non lo so Non lo so Forse non lo so proprio Dai scendiamo Abbiamo anche un sacco di legno Adesso che possiamo mettere via Perfetto Qua c'è una mela E mela Ok Perfetto Buttiamo giù anche questo C'è da buttare giù Che è qualcosa Assolutamente di jungle Che è orribile Da dire Veramente una cosa orribile Comunque direi di andare a dormire Assolutamente Perché tanto Qui non ci si fa nient'altro Ok Buongiorno Abbiamo dormito un pochino Finalmente Qua c'è un pochino di cibo E poi dobbiamo usare una chest La chest Dobbiamo fare una chest di scarico Nel quale alcune cose Addirittura le buttiamo In qualche modo Quindi bisognerebbe vedere Qua ci abbiamo le chest di scarico Ormai l'abbiamo capito Questa è una chest di scarico E niente Quindi scarichiamo tutto qua Poi ragazzi Tranquillamente Come ho sempre fatto Che non l'ho mai fatto in realtà Metteremo via tutto Allora queste cose qui Però magari mi servono Quindi queste mettiamo via Perfetto Questo lo mettiamo qua Ok Allora Adesso passiamo ad un'altra cosa Molto ma molto importante Allora se notate già Abbiamo Forse questo albero qua è brutto da vedere Ci sono Non lo so Ci sono i cosi nero azzurri Però guardate già che bello Non vedere Quello brobrio Perché era veramente brutto da vedere Da questa parte Un'altra cosa che adesso Mi toccherà fare E mettere E fare queste cose qui Fatte meglio Questo lo farò sicuramente Off camera Perché ci metterò Tipo anche un'ora e mezza A togliere tutto E rimettere tutto Ma una cosa fondamentale È che non le metterò più in ordine Ma magari un attimino Un pochino sparse Sinceramente Qua dietro già ci sta Avrei voluto lasciare tre di spazio Tipo tre tra ogni cosa Cos'è meno Potevamo fare tipo la stradina In realtà non lo so Perché a me piace A me piace Vedere tutto unito Avere Sono uno a cui piace Veramente tanto l'ordine Ma una cosa che non mi fa impazzire Di questa cosa che ho fatto È appunto Che non c'è spazio Per passare da un all'altro Tipo qua Sarebbe buono Fare una cosa del genere Per esempio Fare una cosa del genere Aprire anche da questa parte E fare tutte le cose Più o meno unite Possiamo provare a fare una cosa del genere O possiamo provare a tirar giù tutto Ora vedrò off camera Allora ragazzi Ho trovato un bel compromesso Per le farm Una cosa che mi è piaciuta L'ho provata in creativa Un attimino nel mio mondo E mi piace alquanto Allora Come ben vedete Ho diciamo Rotto un paio di parti Ho rotto un paio di parti Vuol dire che ho spaccato I vari angoli Che a me non piacevano Vedete Io se tipo entro da qua Oppure Facciamo una cosa Normalissimo Entriamo dalle patate Io sono dalle patate Se voglio andare al grano Non è che devo uscire E andare poi al grano No Da dentro posso direttamente andare al grano E questa cosa mi piace Devo ancora capire Come giostrare questa parte Se tenerla aperta O tenerla chiusa Per quanto riguarda Questa parte qui Diciamo che non ho fatto granché Se non chiudere lì E togliere la prima parte qua Che personalmente a me piace Poi questa è una cosa Che mi dovete dire voi nei commenti Anzi Io posso fare una bella cosa Del genere qua Guardate un po' Tac Tac E tac Che mi piace già di più E vorrei fare una sorta Di tipo anche qua Adesso vi faccio vedere La mia idea Com'è Perché almeno vi faccio vedere Le mie idee 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 Allora così Qua facciamo così Abbiamo detto Qua si toglie questo qua Tac E si fa tac e tac Perfetto Ho pensato anche di togliere La parte dietro Perché tanto la parte figa È quella davanti No Cioè quella che ci sta È quella davanti Alla fine è quella che fa Diciamo il tutto Se io provo a togliere Questa parte dietro Come viene Proviamo un attimino Allora come ben vedete È tutto più aperto E qua sembra che proprio dentro Ci siano delle varie Diciamo zone di farming E personalmente A me piace molto di più Perché era troppo elaborato Prima Non so se avete presente Il material design Il material design È una sorta di design Detto così insomma Trae dal semplice Il bello C'è praticamente Una cosa così Che è semplice Questo è un peluche del burro Non è semplice Ci sono due occhie Una risata È semplice Non è che ha bisogno Di capelli Di cappelli Di barba Per farlo diventare bello È un esempio stupido Però questo secondo me È molto molto carino Ho pensato anche Di farlo andare Un pochino più indietro Ovvero togliere questa riga qua E farla andare Un pochino più indietro Che secondo me È già anche più carina Come cosa Però personalmente A me piace questa cosa qua Fatta tutto aperto È una cosa che Mi piace molto di più E devo essere sincero Queste cani da zucchero Però sono troppo Perfetto L'idea secondo me Mi piace molto di più In questo momento Cioè la preferisco di gran lungo Vedete io passo di qua Adesso io posso fare una cosa del genere Vedete qua possiamo fare Tutte le varie stradine Che portano da tutte le varie parti Non so Così a me piace Mi piace e basta Non è che c'è proprio Un motivo per il quale Voglio fare questa cosa qua Comunque nei commenti Scrivetemi se vi piace così O comunque vi piace Comunque allo stesso modo di prima Ovvero tenere comunque le parti Anche se sinceramente Provate a pensarci Qua ci sta Se noi teniamo solamente Queste parti così Oddio qua che si può entrare Qui no Lo teniamo un pochino più aperto E qui lo teniamo chiuso Nel senso le due estremità chiuse Quella è in centro aperta Quella è dunque Questa qua appunto aperta Infatti lo farò subito Vi faccio vedere anche Come ho fatto prima Per farlo in fretta Guardate un po' Cioè la velocità assurda Del nostro piccone È incredibile Ok È incredibile Perfetto Infatti qua ho anche spaccato Possiamo fare già una cosa del genere Perfetto E qua spacchiamo tutto Insomma quello che volevo dire È che ci sta Avere la parte centrale Aperta E così ci sta Aprire anche questa parte qua Dei miloni E appunto anche i lati Ora lo facciamo subito Vi faccio vedere Nella completezza Come vorrei che fosse Poi alla fine ragazzi Non ci vuole niente rifarlo Se non vi piace proprio così Lo rifacciamo tranquillamente Ci vuole proprio zero Ci vuole proprio zero Zero secondi a farlo Ok direi di aver finito qui Diciamo la nostra piccola operella Di sistemazione Del nostro giardinetto Se vogliamo metterla così È molto più semplice Ed è molto molto più carino Lo vedo un attimino Più aperto Mi piace molto di più Devo essere veramente sincero Regà Questa parte qui è da togliere Non si fa così Vero bisognava togliere Proprio del tutto Mi pare sì Quindi niente Ora facciamo la stradina La stradina ovviamente È da far centrale Perché la stradina è da far centrale E basta Qui togliamo questo Dobbiamo mettere anche un po' di torce In giro regà Devo essere sincero Perché siamo un pochino A corto di luce qua Dobbiamo fare Anche se le mettiamo a caso Va benissimo Basta che le mettiamo Perfetto Mi piace un sacco Regà Soddisfatto al 200% Perché è venuto davvero Davvero molto Ma molto molto bene Questo potete confermarmelo anche voi